da zain mi trovo qui sui colli bolognesi e oggi volevo parlarvi di un vecchio film quattro passi tra le nuvole di alessandro blasetti e della bellezza di vedere questi vecchi film in bianco e nero questo film è del 1942 e narra la storia di paolo bianchi interpretato da gino cervi che un commesso viaggiatore che vende cioccolatini ha una famiglia con una moglie due figli e vive in un soborgo urbano di roma però non fa una vita molto felice si alza la mattina fa rumore la moglie lo sgrida perché sveglia i figli e chiede i soldi perché deve sbarcare il lunario deve fare le spese insomma non è particolarmente felice della sua vita poi fa un comincia un viaggio un viaggio dove un autobus che ovviamente in ritardo poi prende un treno poi prende un altro auto insomma nel viaggio in treno incontra un collega che gli ha tenuto il posto e poi a un certo punto questo posto quando lui si alza per chiacchierare col collega li viene preso da una ragazza e lui inizialmente la fa spostare poi vede però che la ragazza è un po sola un po turbata e quindi gli cede il posto poi quando arriva il controllore il controllore chiede i biglietti la ragazza non trova il biglietto lui comincia a rimproverare il controllore per essere troppo autoritario con questa ragazza e alla fine la ragazza trova il biglietto poi dopo insomma a un certo punto anche lui per varie vicissitudini non riesce a trovare il biglietto quindi il controllore lo costringe a scendere alla stazione ci sono tutti i controlli eccetera eccetera alla fine lui si trova a dover prendere un autobus per continuare il suo viaggio e in questo autobus incontra di nuovo la ragazza che gli racconta la sua storia di racconta che sta tornando nella nel podere di campagna dei suoi genitori dove però deve raccontare ai suoi genitori la sua vicenda cioè il fatto che lei si è innamorata di di un uomo che poi si è sposata l'ha abbandonato e aspetta un bambino però ha paura lei è terrorizzata questa ragazza adriana benetti è terrorizzata perché ha paura che il padre che è un uomo autoritario di vecchio stampo non accetti questa cosa perché è un'offesa per l'onore della famiglia eccetera eccetera quindi la ragazza propone a gino cervi di far finta di essere il suo sposo e gino cervi inizialmente non accetta però poi alla fine si commuove di fronte alla tristezza al pianto della ragazza accetta di fare questa parte quindi si recherà in campagna dove riscoprirà gli antichi moris i valori della campagna questo film è stato sceneggiato da cesare zavattini e qui vediamo proprio la contrapposizione tra città vita urbanizzata e campagna nella campagna si crea un'atmosfera quasi da sogno infatti il film diventa quasi onirico anche se questo film è stato considerato uno dei capostipiti del neorealismo il neorealismo italiano ha messo in evidenza la crudezza della vita urbana pensiamo a mamma roma di pasolini oppure a umberto di quello dove c'è questo vecchio questo vecchio signore che viene abbandonato dalla società oppure pensiamo anche miracola milano dove c'è anche qui l'atmosfera in iricano le persone che sognano di volare via in bicicletta dalla dalla città che è troppo angusta e rumorosa caotica inquinata quindi c'è proprio la contrapposizione tra città e campagna è un film sull'amore amore verso la vita amore verso la natura amore verso la campagna verso i vecchi valori Gino Cervi farà nel campagna il giro in campagna insomma si affizionerà quasi a questa famiglia che inizialmente è diffidente nei suoi confronti ma poi lo accoglie a braccia aperte e quindi poi non vi dico chiaramente il finale dei film perché non voglio spoilerare di questo film è stato fatto anche un remake di Alfonso Arau il regista messicano credo che ha fatto anche come l'acqua per il cioccolato il film originale quello del 42 credo che sia è un film sui vecchi sentimenti questo quattro passi tra le nuvole di Alessandro Balasetti quello di Arau è un film molto più erotico ci sono scene abbastanza erotica ma la storia è molto simile anche se diciamo è ambientato in America Messico ed è un po' diverso perché il protagonista fa anche lui il commesso viaggiatore però non comincia con la situazione della famiglia ma comincia con una situazione di guerra lui appena tornato dalla guerra ha questa fidanzata a cui ha scritto tante lettere che è New Reeves che anche lui si chiama Paul e ha già progettato di sposarsi con questa ragazza la ragazza lo convince a fare anche lui andare a vendere i cioccolatini quindi lui va a fare il viaggio per vendere questi cioccolatini e sul treno incontra questa ragazza che li casca proprio addosso quindi c'è proprio un contatto fisico molto di più che nel film di Gino Cervi anche lì poi la ragazza gli racconta della sua storia di essere rimasta incinta perché si era innamorata di un suo professore che l'aveva messa incinta ovviamente abbandonata e doveva andare dal padre e dichiarare questa cosa anche il padre vive in un podere di campania una vigna c'è tutta la vendemmia c'è tutta l'ambiente rurale gli antichi mores il modello patriarcale che sono in crisi rispetto al modello urbano il modello della città che c'è questa contrapposizione quindi in tutti i due i film solo che nel film di Arau appunto questa contrapposizione ha una tinta molto più erotica più basata sui buoni sentimenti alla fine Gino Cervi piacerà alla famiglia anche che New Reeves piacerà alla famiglia in cui viene inserito tra l'altro che New Reeves ha subito l'incubo della guerra quindi anche qui c'è il sogno che compare come immagini orribili della guerra di New Reeves che si trova in guerra con un bambino morto che New Reeves senza famiglia che si trova ad essere accolto in questa nuova famiglia è bello vedere questi film in bianco e nero e anche queste rivisitazioni a colori che parlano di sentimenti di una volta che forse adesso sono un po perduti e che occorrerebbe recuperare non è che si fa la contrapposizione tra passato d'oro e presente invece negativo il modello patriarcale per esempio nel passato era un modello che comunque non portava necessariamente alla felicità però entrambi i padri di questi ragazzi di Ederana Venetti della protagonista di Il profumo del mostro selvatico il remake del 1995 con Kanye Reeves e poi ci sono anche attori come Anthony Quinn come Giancarlo Giannini che fanno offrono delle ottime interpretazioni e c'è la scena della vendemmia del vino che è una scena quasi dionisia che dove i personaggi si abbandonano alla passione alla gioia al sentimento e in quel momento che New Reeves sta quasi per avere un rapporto sessuale per darsi completamente a questa ragazza ma poi poi rinuncia insomma perché sono tutte due persone comunque dotate di buoni sentimenti che hanno una bontà d'animo che adesso forse è un valore che va un po recuperato in una società utilitaristica consumistica dove individualista dove ognuno pensa a se stesso quindi invece darsi agli altri e aiutare le persone bisognose anche prestandosi a ruoli che comunque possono mettere in difficoltà il protagonista perché sia Gino Cervic che New Reeves poi si trovano a dover affrontare il padre della ragazza che invece è molto severo nei loro confronti e insomma li giudica male poi c'è c'è quando si scopre poi la verità è un momento abbastanza pesante quindi vi dico solo che i due esiti dei due film sono diversi non so quale sia quello più giusto quel più sbagliato comunque ogni film può avere un lieto fine o meno però l'importante è il valore che trasmette questo film i valori gli antichi moris i costumi degli antenati i costumi dei nostri nonni degli antenati sono dei valori che vanno recuperati che ritroviamo in questi bellissimi film in bianco e nero che raccontano un passato come può essere quello della guerra perché Alessandro Blasetti ha scritto per esempio questo film quattro passi tra le nuvole nel periodo della guerra non è un film sulla guerra Alessandro Blasetti è stato un fascista anche lui ha avuto diciamo fiducia ai Mussolini infatti ha fatto un film vecchia guarda proprio dove esaltava la figura di Mussolini però poi si è dato ad altri generi di film la corona delle beffe la cena delle beffe scusate la corona di ferro sempre con Gino Cervi e Gino Cervi anche dal canto suo ha fatto molti film politici pensiamo alla lunga notte del 43 al cardinale Lambertini oppure al Don Camillo che verrà circa dieci anni dopo questo film però in questo film non interpreta una parte politica interpreta un ruolo sociale diciamo che comunque nell'ambiente urbano ha una sua criticità una sua difficoltà che viene affrontato in questa occasione infatti c'è un po' l'effetto serendipity in questo film uno cerca qualcosa e trova qualcos'altro l'effetto serendipity di cui avevo già parlato anche in un altro video quando noi nella vita andiamo sappiamo cogliere le occasioni che ci capitano noi nella vita facciamo dei viaggi facciamo delle esperienze incontriamo delle persone o ci troviamo in certe situazioni che a volte possono anche portare dei mutamenti alla nostra vita infatti Gino Cervi dirà io non sono mai stato tanto bene non mi ricordo l'ultima volta che ero stato così bene perché quelli in campagna li fanno bere il latte li fanno mangiare la ricotta mangia i prodotti della terra insomma lo stesso che succede con Kenny Reeves che fa la vendemmia che si trova accolto in questa famiglia e loro in cambio danno i loro cioccolatini che sono degli oggetti di città diciamo che devono vendere però che il nonno sia Anthony Quinn che l'altro nonno che è un caratterista già visto in altri film apprezzano molto volentieri quindi io vi consiglio di guardare questo film in generale di guardare i vecchi film in bianco e nero perché rappresentano un passato che ogni tanto è opportuno ramentare ricordare rammemorare arrivederci a tutti